Bello anche questo video in spagnolo Efectos della Fuerza de Coriolis come lo chiamano loro, non Coriolis ma Coriolis invece si chiama Coriolis perché è francese Vediamo che due persone si trovano all'interno di un sistema di riferimento che sta ruotando e si lanciano una pallina Vediamo Visto dal sistema di riferimento interno rotante la pallina non va in linea retta infatti fa delle traiettorie curve Rivediamo le traiettorie curve che fa la pallina E quando questo signore prova a schizzare la ragazza con l'acqua vediamo che cosa succede non riesce a colpirla Interessante anche il moto di questo pendolo quando viene visto dall'interno del sistema rotante Vediamo Viene lasciato andare questo pendolo e come si vede dall'interno del sistema rotante fa un movimento molto strano descrive praticamente una stella eccolo qua cosa che non farebbe mai se il sistema non fosse in rotazione il sistema di riferimento semplicemente oscillerebbe sempre nella stessa direzione